Oh, c'ho un kit qui! No, raga, l'ho controllato bene, eh, sì, sì. Il kit me lo tengo, potrebbe tornarmi un udile. Per ora da qui me ne vado. Allora, lui ha detto che è nascosto la spada sotto un letto. Quindi ora devo controllare tutti i letti, ci vorrà un bel po'. Che diavolo succede? Cos'è questa grafica? Oddio. Oddio. Vabbè, sta cantando il noso. Gli acidi fanno male. Ma lo devo affrontare? Ma non ne ho la più pari di idee. Mi faccio il piano così. Tanto non sbucano i mostri, a quanto pare. Dalle pareti. Che era quello il mio problema principale. Oh, Gesù! Ciuccia. Ande ciuccia, ande ciuccia. Ande ciuccia. Mmm! Ah, ok. Questa porta qui, ok. Se passo da qui... Sì, dite. Non, 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 non. Scusa, amico, scusa, 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 amico. Aspetta, un'altra idea. E se prendo dall'appartamento la pistola, visto che tanto lui è un fantasma, prendo la pistola e gli sparo. Prendo il revolver col proiettile, figlio, gli sparo e lo inchiodo a terra. Ando a me rompere le palle. Ma l'ho salvato. Eccolo. Ma che cavolo! Beh, non fa un cazzo. Guarda, forse lo posso terrare anche così. Eh, beh, sparargli, puntarlo bene, magari testa di cazzo. Guarda. Come cazzo lo punta? Dov'è caduto? Ma io non ho parole, veramente. Poi il proiettile non lo mette. Se si doveva fare così, vabbè, dettagli, dettagli, chi se ne frega. Oh! Spada dell'obbedienza. Forse, e dico forse, con questa merda posso... Cos'è questa la spada dell'obbedienza? Non ho niente. Cioè, scusi, spada. Dov'è cazzo, vabbè? Cosa sta adesso? Oh! Water prison generator room key. I tuppi sono andato in B2. C'è una porta chiusa. E' una porta chiusa in B2. Ma non lo sapevo. Andiamo a controllare. Affanculo, tua mamma puttana. Mica noiosi questi cosi, madonna. Allora, vediamo. Dov'è la porta chiusa in B2? Forse intende qui? No, forse intende più sotto, intende. B2 è al di sotto. Qui probabilmente devo salire di sopra. Dov'è di sopra, vabbè. Aspetta, se ne la volo qua, è uno di questi buchi? No, non fa, perché non fa? Krishna, che merdaio, guarda che devo fare. È colpa di questa minchione. Dai, modi di seguirmi, eh. Senza se, senza ma. Mmm, la gusto. Ecco qua. Eh, perfetto. Squara, sì, sì. Tanto è diventato Max Payne adesso. Dio mio. Ma il leg. Dio, corre, corre. Devo vedere se c'è un modo per curarla, sta minchione. Non vorrei che mi morisse così. Cioè, ma almeno dare un piccolo comando, la possibilità di comandare. Cioè, comandare e dirle, oh, rimani qui un attimo, no. Neanche quello, devo incastrarla io in qualche modo ogni volta. Allora. Cioè, il letto è insanguinato. Ok, questo. Giù. Giù di nuovo. Giù di nuovo. Perfetto. E qui, quindi, c'era una porta chiusa. In the basement. No, non lo so. Io muovo un drogno. Spesso, secondo. A parte che mi curo. Forse per il B2 intendere la porta che c'era qui, no? Cioè, per forza. L'unica porta che penso sia questa. Cioè, è questa. Sì. Guardate cosa porta la stra... Oh mio Dio. Cosa cazzo è un esercito? Fatemi sotto. No! Ah! Ah! Ecco il problema. Si rialzano. Fuga! Che diavolo. Oh mio Dio. Eh! Ma tutti! Forse non è meglio. Però nell'altro proiettivo. Che cazzo se lo aspettavo di trovare così tanti? Non indicarmi che è maledicazione. Cioè, quindi devo andare a trovare, a prendere di nuovo quella merda. Che due palle. Avessi saputo non essere portata dietro. No, ma lo faccio la prossima volta, ragazzi. Cioè, veramente... No! Non ho fame. Cioè, sei di questi stronzi ho ucciso almeno. Dai! Da cacchio scappi, stronzo! Ok! Gli ho schiacciati per bene. Avrebbero essere tutti belli morti. Infatti lo sono. Ok, devo andare a riprendere quella cozza. Quindi avrò poco. No, andiamo a cozza. L'ho trovata. Ok, la porta di sotto. È salvo anche prima di entrare. Perché ho paura. Andiamo, corri. Madonna, guarda. Eh, aspetta. No, mi sto solo puntando due pistole. Cosa devo fare? Cioè... Harry, you're going too fast. Ma non è giusta la strada. No, non è giusta. Devo scendere ancora. Devo andare di shot a shot. Ti immagino quanto sia divertente per lei farsi tutta sta strada con i tacchi. Minchia. No, beh, è giusto. Lei non so fare le scale. Quindi devo scendere così. Quindi si fa ammazzare sta Laida. È quasi fatta. Me lo sento. Ma quanti livelli mancano? Mancano gli appartamenti. Non sto coglione che soffro. Mancano gli appartamenti. No, ma se non quelli erano gli ultimi. Non mi ricordo. Forse era il centro commerciale anche. Ma cazzo sono uscito? Ma stai scherzando? Boh. No, ho comunque visto la porta. Vieni. Imani sulla destra. E non ti succederà nulla. Dai, dai che siamo qua si arriva. Dai che siamo qua si arriva. Dai che siamo qua si arriva. Eh, lì. Ok, siamo arrivati adesso. Mi date un atomo di tempo. Vado, salvo. Prendo... Oh, il kit ce l'ho. Oddio. Non metto a posto. Più che altro prendo una bombanda energetica. Anzi, io il kit me lo tengo. Prendo proiettili, non lo so. Vediamo cosa succede. Porca vaca, c'è qualcuno. Candelina? Dove è Others? Che fortuna che ne ho tante di candela. Se la metto qua, spero che stia facendo un effetto. Ma che se lo faccia poi? Non c'è niente. Era giusto, allora. È sparito, quindi non mi fa più nessun effetto. Allora era giusto. Oddio. Ho fatto paura. Andiamo ad una maiala. Oddio, pensavo non ci fossi. Guardi, stavo già... Per trucidare. Allora. Mettiamo un po' di vita. Il kit me lo tengo. Andiamo qui. Ah, guarda cosa ho fatto per te. E dimmi che non sono un vero principe azzurro. Guarda, guarda la strage che ho fatto. Però mi avrebbe dato una mano lei con le catene. Ok, mi sa che è il prossimo livello questo. Mi sa che stiamo arrivando al centro commerciale a stavolta. Il penultimo livello. Run, bitch, run. Run, bitch, run. Ok. Io direi che è arrivato il momento di spezzare il let's play. Perché ne ho fatto uno da un'ora circa. Quindi c'erano ben due belle partite. Credo. Non so quanto ne uscirà. Che cacchio. Oh mio lord. Un bel tumorino. Oddio. Ma il medaglione non mi serve. Mi serviva anche per i fantasmi il medaglione, no? Antispirito. Qua non puoi metterla. Da cacchio la metti? Oddio. Oddio mi sono piazzata male. No, no, è giusto, è giusto. Che cosa sta andando? Ma la candela è ancora intatta? Oddio. Ma la candela è ancora intatta? Forse non serviva. Sono un completo coglione. Ce n'è ancora? Sono un idiota. Ho sprecato una candela. Uccidetemi, trucidate. Spero di aver risolto. Non c'è niente. Ok, dai, allora... Spezzo quell'explay bestiaccio perché... Guardate la candela in stasola. No, questi gazzi. Per una. E ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.